Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi . Rudy Zerbi, insegnante di Amici di Maria De Filippi, si è lasciato andare ad una rivelazione dopo tantissimo tempo, finalmente la verità Rudy Zerbi.La conduttrice Maria De Filippi ha deciso di puntare su Rudy Zerbi non solo come insegnante della scuola di Amici ma anche nelle vesti di giudice per Tussi Kebales Due ruoli che hanno permesso al grande pubblico italiano di conoscerlo nei suoi pregi e difetti Non a caso, il noto insegnante del talent di Canale 5 è finito spesso al centro delle polemiche a causa dei suoi giudizi nei confronti di alcuni allievi Una caratteristica che ha mostrato di avere anche nel corso dell'ultima edizione del format andata in onda Zerbi ha soprattutto dimostrato di avere sempre le idee chiare e di cambiare poche volte opinione In queste ore è arrivata a tal proposito una sua clamorosa dichiarazione L'insegnante ha ammesso di aver cambiato totalmente idea ma non su di un ex allievo della scuola ma sul suo vero nome Infila un ago in una banana e guarda cosa succede dopo. Devi provare questo trucco Rudy Zerbi, l'inaspettata ammissione sul suo vero nome, passato complicato Le parole di Rudy Zerbi, screenshot twitty. Volto ormai storico della scuola di amici di Maria De Filippi, il noto insegnante ha raccontato al settimanale TV sorrisi e canzoni, il mio nome è Erdolfo, come il papà di mia mamma Da bambino lo odiavo, i miei compagni mi prendevano in giro e quindi è nato il diminutivo Rudy Per lui da bambino non è quindi stato semplice accettare il suo stesso nome a causa dei durissimi commenti di alcuni suoi compagni di scuola Con la maturità giusta poi totalmente cambiato idea e ad oggi la pensa in modo assolutamente diverso, oggi lo amo e se qualcuno mi chiama per esteso sono contento Il noto insegnante adesso quindi la pensa in modo diverso anche perché con questo nome ha raggiunto il successo ed è amatissimo adesso dal grande pubblico C'è però una sola persona che continua a chiamarlo con il suo nome di battesimo, mi chiama Rodolfo solo mia madre quando è arrabbiata Una rivelazione importante del suo passato che senza dubbio permette al pubblico di conoscere meglio l'insegnante Intanto sul suo futuro professionale sembrano esserci ormai sempre meno dubbi La conduttrice Maria De Filippi sembrerebbe infatto decisa a confermarlo anche in vista della prossima stagione televisiva Rudy tornerà sia nello studio di Tussiche Vales che in quello di Amici Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video